Una lite tra cinque persone che dalle parole è passata subito ai fatti, la rissa è avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì all'interno di un'attività commerciale che si trova in via Filippo Turati. Tra i componenti di due nuclei familiari due fratelli è un padre e un figlio. Da una prima ricostruzione dei fatti tracciata dagli uomini delle volanti della squadra mobile sono intervenuti sul posto padre e due figli che si trovavano all'interno di un locale seduti ad un tavolo. Sono stati avvicinati da due fratelli e per motivi ancora che non si conoscono si è accesa una discussione che poi dalle parole è passata subito alle mani ed è diventata una rissa nella quale i contendenti si sono colpite con sedi e altri suppellettili. Il titolare del locale è completamente strano ai fatti, ha tentato di dividere i ristanti, di separarli ed è stato colpito da un pugno. Gli agenti hanno identificato padre e due figli che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale e addosso al padre è stato trovato un colterro a Serramanico che è stato sequestrato. I due fratelli sono stati trovati dopo perché si erano già allontanati dal posto della rissa. Le cinque persone sono state condotte in questura e sono stati denunciati per rissa aggravata.